buongiorno a tutti ora facciamo quello che qualche esercizio ok ora puoi sciogliare spazzate così vai apertura uno praticamente lanci la gamba su e giù su e giù mantenendole qui apri le braccia se guarda uno due con l'altra parte con l'altra parte apri apri sinistra 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 ora apri dove pianti il piede apri sinistra sinistra uno uno destra uno destra uno destra sinistra uno uno sinistra uno destra uno sinistra uno 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 un sindotto avanti indietro con la schiena Sanna, ripeti, sci, go, vieni più in alto, rocca, ripeti, ci, 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 ci. Sanna, ripeti, sci, ci, 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 ci Sì, 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 sì. Vado indietro a portagalio, giù, 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 ok, così non ti fa mai male. La testa è sempre in avanti, vai giù, seguito, e poi giù, perfetto, ancora, bravo, bravo capire, bravo capire. Ecco, contro, no, come prima, sempre prima, perfetto, ok, saluta ai nostri telespettatori, la saluta, andiamo in avanti, tutte e due così, vieni, 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 vieni. Ciao, vieni, 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 ciao, ciao. Ciao. Grazie.